Mister Civico, per il Trivento un punto primo del 2024, che partita è stata? È stata una partita, secondo me, giocata molto bene. Al primo tempo abbiamo fatto 3-4 occasioni gol, ci poteva stare il gol. Poi loro sono ripartiti benissimo 10 minuti, noi abbiamo cambiato qualcosa e penso che l'ultima mezz'ora meritavamo di fare il gol. Un punto che comunque è utile è muovere la classifica e fa morale in vista dei prossimi impegni. Sì, l'importante, lo dicevo, prima della partita dei ragazzi, tutte le domeniche dobbiamo cercare di smuovere la classifica. Voglio fare comunque complimenti a tutti e a tutti i ragazzi perché hanno messo impegno. È mancato, secondo me, solo il gol. Abbiamo incontrato comunque una buona squadra e il punto ce lo teniamo stretto. Prossima tappa a Esernia, campo difficile. Il campo è difficilissimo perché comunque Esernia è una corazzata. Ha vinto anche a Torre Maggiore, quindi sarà una partita difficile, ma noi ci dobbiamo preparare bene e cercare di raccogliere qualcosa. Mister D'Amente, il giro di ritorno per lo spinete parte con un punto utile al morale e alla classifica. A Trivento si poteva fare di più? Sì, diciamo che è un punto più utile al morale che alla classifica. È normale, siamo venuti qui a giocare contro una signora squadra che stava davanti a noi in classifica, quindi non perdere è sempre buono. Poi dopo la sosta natalisi è sempre un'incognita ripartire, quindi ce lo prendiamo a questo punto. Il giro di ritorno si dice spesso che possa essere un altro campionato, magari anche per via dei movimenti di mercato. È così per te? Io più che altro me lo auguro. A livello di mercato non abbiamo fatto tantissimo. Abbiamo giusto fatto qualcosina, ma sicuramente non quel qualcosa che sposta gli equilibri. Mi auguro di fare un giro di ritorno un pochettino migliore sotto il punto di vista dei punti, perché comunque all'andata abbiamo fatto 20 punti, forse ne meritavamo qualcosina in più. Prossima tappa, si torna in casa, arriva il Forum, altra gara complicata. Sì, ormai l'abbiamo visto, ma già dall'anno scorso qui stavano tutte le gare difficili. Prima della sosta siamo andati a parcheggiare i segni, quindi il campionato si può vincere e perdere con chiunque, quindi tutte le partite sono difficili e dobbiamo cercare di raccogliere i più punti possibili.